Carissimi amici e amiche, bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato ai nuovissimi, argomento molto importante, focale, affascinante, decisivo come abbiamo visto la volta scorsa per la nostra non solo vita cristiana ma per la vita dell'uomo in quanto tale abbiamo iniziato a introdurre il tema per comprendere che il problema di quello che ci aspetta dopo questa vita terrena, se c'è qualcosa o il nulla è un problema molto serio perché non affrontarlo e non risolverlo può avere delle conseguenze assolutamente gravi alcune delle quali irreversibili perché certamente comprenderemo se avremo la pazienza di seguire questo itinerario che comunque più o meno dovrebbe essere noto ad una fede cattolica che sia degno di questo nome ma certamente l'approfondiremo e cercheremo di coglierne degli elementi più importanti. La volta scorsa abbiamo un pochino introdotto il tema, abbiamo cominciato un attimo ad entrare nel grosso problema della morte che comincieremo poi ad affrontare questa sera in maniera dettagliata e possiamo riprendere appunto il discorso ricapitolando che la morte segna il passaggio definitivo dell'uomo da questa all'altra dimensione, nonché il momento della verifica sulla sua vita, quello che come vedremo la Chiesa chiama il giudizio particolare, un momento molto molto importante e a cui tutti andiamo inesorabilmente incontro, un momento in cui non voglio anticipare i tempi però comprenderemo cosa abbiamo fatto dell'anima che il Signore ci ha affidato tanto per introdurre le parabole dei talenti, ma più ancora che dei talenti della mina che tutti quanti ricevono una mina, non chi uno, chi due, chi cinque talenti i commentatori dicono perché tutti quanti una mina e poi chi la porta moltiplicata per dieci, per cinque chi la mette nel fazzonetto, la mina che cos'è? È l'anima cari amici noi siamo i custodi della nostra anima, non ci sono altri custodi della nostra anima che non te stesso per la tua e me medesimo per la mia non ci sono altri custodi la fine che fa la tua anima dipende da te e la fine che fa la mia anima dipende da me l'attenzione è che la nostra anima non si identifica né con la nostra intelligenza né con la nostra volontà io adesso sto parlando perché sono cosciente si spera che ci abbia un'intelligenza che funziona quindi che stia dicendo delle cose sensate e parlo perché voglio parlare ho pensato dopo certamente averci pregato di fare questo ciclo di catechesi quindi è iniziato si tiene la diretta il lunedì sera alle 21.30 adesso sono le 21.40 quindi da qualche minuto è cominciata questa catechesi perché ho voluto ecco ma la mia anima è qualcosa di più grande di quello che sto facendo adesso è qualcosa di meraviglioso è qualcosa di spettacolare certo le mie facoltà fanno parte come facoltà della mia anima ma non sono la mia anima ecco l'anima stessa è per noi un mistero tu ed io non conosciamo bene la nostra anima e qui come sempre faccio rimandiamo un pochino tra un ciclo di catechesi e l'altra ci aiuterà a conoscere un po' meglio la nostra anima per esempio e anche tutta quanto una serie di potenzialità immense di cui qui su questa terra non ne usiamo praticamente nessuna il ciclo di catechesi dedicato a tenere amata che sta già producendo grandi reazioni, grandi entusiasmi e poi se vi dico insomma alcune cose che mi stanno arrivando veramente anche da parte insomma di volontà umane che proprio che non stanno molto ben sintonizzate veramente delle volte proprio vabbè lasciamo aperte il giudizio particolare apre tre vie il purgatorio, il paradiso e l'inferno di fatto il paradiso significa aver raggiunto l'obiettivo della santità abbiamo visto anche la volta scorsa che peccato in ebraico attat significa fallire il bersaglio se vogliamo preferire insomma il cardinal Petrocchi ci diceva sempre a noi che nel giudizio avremo il confronto con come Dio aveva pensato la nostra vita e come la nostra vita è andata se c'è coincidenza perfetta siamo diventati santi e andiamo in paradiso se c'è coincidenza parziale non siamo diventati grandi santi andremo al purgatorio e se c'è completamente difformità cioè quello che aveva pensato Dio è una cosa e ho fatto un'altra arriviamoci da soli paradiso è centrale il bersaglio purgatorio è tutto sommato avete visto i bersagli come sono fatti centrale il bersaglio vuol dire che tu fai centro se stai dentro il bersaglio vuol dire che ti sei distaccato più o meno tanto dal centro e se la freccia va vuoto è fallito il bersaglio se esce fuori dall'obiettivo e l'iso guai come vedremo a suo tempo dopo il giudizio particolare game over non c'è possibilità di rimediare al fallimento prima si dopo no ora tradizionalmente i nuovissimi nei manuali di escatologia classica adesso certo noi lo affrontiamo da un punto di vista catechetico ma l'escatologia è una branca molto importante della teologia dico subito che questa classificazione oggi è non seguita dalla stragrande maggioranza dei teologi delle facoltà come dire ufficiali a mio avviso però rimane la forma migliore anche perché ha le sue origini in San Tommaso d'Aquino che distingueva i nuovissimi hominis cioè la morte il giudizio particolare l'inferno il purgatorio il paradiso e da questi distinti poi gli istinti dai nuovissimi hominis c'erano i nuovissimi mondi che sono quelli che riguardano le realtà ultime cioè la parousia la risurrezione della carne il giudizio universale e la vita del mondo che verrà quindi sono argomenti da tenere distinti e da affrontare dettagliatamente ciascuno per ciò che riguarda la propria diciamo così sfera di competenza ora i nuovissimi hominis appena accennato morte il giudizio particolare inferno purgatorio paradiso e c'è anche la questione del limbo che io affronterò perché il limbo che non è a differenza dell'inferno del purgatorio del paradiso è un dogma di fede ma è una dottrina comune antica quindi è stato liquidato negli ultimi anni io prima di come dire di sdoganare questa liquidazione ci penserei bene perché ci sono tutta quanto una serie di ottime motivazioni come vedremo per pensare che il limbo esiste come altro problema è l'eternità del limbo che era addirittura affermata anche da San Tommaso ma su cui diversi autori e anche diverse rivelazioni private non concordano e non concordo neanche io sull'eternità del limbo però un conto è rivedere un po' la dottrina sul limbo un conto è dire non non ne parliamo più perché probabilmente non esiste io che non esista ho molti dubbi questa è una materia vi dico subito libera d'accordo perché non essendo un dogma di fede non si può dire che chi lo nega è eretico però essendo una dottrina comune chi lo nega secondo i canoni classici di giudicare questa cosa anche perché del limbo si parlava esplicitamente per esempio nel catechismo di San Pio X adesso non se ne parla più è scomparso dal nuovo catechismo con quelle cose quando su una cosa non sei più tanto sicura la vanno scomparire prima io prima di continuare queste come dire questi licenziamenti e questi posizionamenti nei dimenticatori di tante cose io ci andrei molto cauto molto cauto questa mania degli ultimi 60-70 anni mania un po' che sa un po' di modernismo non vorrei vorrei sbagliarmi però l'idea insomma che tutto quello che è antico è solo per il fatto che è antico già sospetta di muffa già puzza di muffa secondo qualcuno quindi prima ce ne sbarazziamo e ce lo togliamo dai piedi meglio è io che questo sia insomma un modo di procedere consono e corretto sempre nutrito e più tempo passa più aumentano molti dubbi molti dubbi e proprio in coscienza non non mi sento assolutamente autorizzato a procedere in questo modo se qualcuno vuole farlo se ne assume la responsabilità davanti a Dio e anche davanti alla Chiesa e agli uomini ma a me non sembra opportuno procedere in questo modo bene detto questo cominciamo a introdurre il tema della morte la morte la morte la morte la morte la grande come dire la grande sconosciuta in che senso se c'è una premesso che se c'è una cosa che sicuramente accadrà in futuro sapete che nessuno di noi può prevedere il futuro io non lo so domani sera a quest'ora che cosa starò facendo e nemmeno se ci sarò perché poi è sicuro che faccio che muoio in diretta mi prende l'infarto immaginate hanno cominciato a fare gesti strani finisce la diretta è finita la diretta in modo un po' traumatico per lasciare questo mondo può darsi che il nostro signore abbia pensato altre cose non possiamo sapere io non posso sapere nulla del futuro se non succede niente questa diretta finirà domani sera a quest'ora non ci sono dirette quindi forse starò facendo qualche qualche altra cosa non starò presumibilmente davanti al computer invece starò mercoledì con l'incontro biblico e venerdì se Dio vuole con la terza puntata di Tenevamata ma questo presumo che sia così ma non ne posso essere sicuro invece sono sicuro che un giorno o l'altro morirò questo è sicuro questo qui non so quando ma so che senza nessun dubbio eppure la morte guardate posizioni attuali nei confronti della morte perché chiaramente questo è un ciclo di catechesi quindi la catechesi serve a come dire a provocare anche a collocare chi ascolta per far capire tu in quale area stai allora c'è sapete che un tempo c'erano i tabù sessuali adesso questi li hanno distrutti tutti basta con i tabù facciamo tutto quello che vogliamo e poi ci sono i nuovi tabù però adesso ci sono i nuovi tabù ah il primo grande tabù cioè tabù è una cosa di cui non si può parlare no? una volta di sesso non si può dire non si può assolutamente parlare adesso di questo se ne straparla e si strafa ma della morte non si può parlare se si parla se si parla della morte in certi ambienti per bene che va parte qualche gesto apotropaico d'accordo? ma cioè ci sono persone che non ne vogliono proprio sentire parlare dimenticando dimenticando l'antico adagio che era scritto a carattere cubitali in certi monasteri addirittura in qualche porta di qualche celletta memento mori c'è stata fatta anche dell'ironia in qualche nota pellicola umoristica chiamiamola così di commedia all'italiana no? ricordati che devi morire la frase è molto importante perché capite cioè condanna in maniera assoluta inesorabile il considerare la morte come tabù quindi non ci devo pensare e non ne devo parlare una volta questo era per le cose de sexto non ci devo pensare e non ne devo parlare adesso è diventato della morte agli ascoltatori il giudizio se è preferibile evitare di pensare o parlare delle cose de sexto o di sorella morte corporale che voi sapete che alcuni santi tra cui il mio grande omonimo Leonardo da Porto Maurizio ci avevano sulla scrivania sono cose che adesso quando le vedono diciamo sono queste cose il gusto dell'orrido horror macabro ci avevano il teschio sulla scrivania Leonardo da Porto Maurizio ce l'aveva senza dubbio infatti è sempre rappresentato anche dipinto con questo teschio davanti a sé il teschio e poi qualche fragello che si vedeva in sottofondo tutte quante cose che oggi chiamano subito il 113 immaginate se entrassero in una casa di qualche frate o di qualche prete e trovano il teschio e il flaggello 113 garantito seduta a stante con qualche seduta di riabilitazione lunga in qualche casa casa famiglia con un buon team di psicologi insomma a fare tutto quanto un programma riabilitativo ci immaginiamo no io scherzo perché per alleggerire un pochino la la cosa ma guardate che non è che siamo molto distanti dal vero nonostante che io stia ironizzando un po' questo per capire dove siamo arrivati no quindi per alcuni è un tabù assoluto o per altri è uno spauracchio assoluto quindi c'è la morte tabù e c'è la morte spauracchio cioè il terrore della morte la morte temuta come il male assoluto è un po' diverso perché chi la esorcizza in questo modo sciocco quindi non ci pensa si illude che non venga mai applicando un po' quella cretinata quella è proprio una delle più grandi cretinate che sia stato detto nella storia da chi tra l'altro si vantava anche del titolo di filosofo che era Epicuro la più grande cretinata mai mai detta sapete che diceva Epicuro fondatore dell'edonismo quindi di quelli che ci fanno coincidere la felicità con il godimento dei piaceri della vita per la cronaca Vangelo c'è scritto stamattina l'Omedia per il settimanale di Padre Pio Vangelo che sentiremo non domenica prossima tra due monete tra due domeniche il ricco e pulone e il povero Lazzaro quindi classico Vangelo dove ti fa vedere la fine che fa quello che ha fatto coincidere la propria felicità con il godimento di tutti quanti i piaceri della vita quindi abbagordi banchetti il Vangelo si evita a dire banchetti però presumibilmente c'era anche altro un po' come facevano i romani quindi c'erano i lauti banchetti e al termine del banchetto puntini puntini ecco quindi però il Vangelo tra due domeniche sarà sarà molto chiaro no? quindi Epicuro che è il fondatore dell'edonismo cioè edonismo significa piacere edonei in greco significa piacere edonismo significa ricerca sfrenata del piacere in cosa consiste la felicità? nel godimento di tutti quanti i piaceri possibili e immaginabili tutti ci sono varie rappresentanti in giro cioè la grande maggioranza della gente oggi pensa a questo e e quindi che cosa diceva goditi la vita goditi tutti quanti i piaceri che vuoi la morte la morte non è un problema perché fino a quando tu ci sei la morte non c'è e quando c'è la morte tu non ci sei più una cosa molto diffusa pensate per esempio in televisione le serie dove muore qualcuno ceb cremazione e ceneri dispersi i rituali delle dispersioni delle delle ceneri no? proprio la cremazione l'ho già accenata la volta la scorsa di per sé è proprio un atto che non è detto che sia fatto con questa intenzione ma di per sé è l'attestazione della credenza che secondo qualcuno dopo la morte non c'è nulla d'accordo? e quindi solo che c'è un piccolo problema che dopo la morte ci sia qualcosa non si può dimostrare scientificamente ma che Epicuro abbia detto una cretinata sì perché il discorso è quando io ci sono non c'è la morte quando la morte c'è io non ci sono non lo puoi applicare a un essere umano lo puoi applicare agli animali ragionevoli sono gli animali ragionevoli che per i quali la morte non è un problema perché fino a quando ci sono la morte non c'è e quando arriva la morte non ci sono più ma il problema è che l'animale irragionevole non sa che deve morire perché non ha l'anima e non ha la ragione se un gatto o un cane va per strada e vede un cadavere di un gatto o di un cane mica penserete che quello dice questo è morto un giorno non mi capiterà pure a me no l'annusa probabilmente io non ci sto dentro la testa di un cane o di un gatto probabilmente percepirà qualcosa di strano ma quello che è certo è certissimo che sicuramente non fa questo tipo di processo di ragionamento e non sa che deve morire ne sa lo sappiamo noi che i cani e i gatti campano 15 anni circa massimo i cavalli 30 e gli altri animali non sono molto competenti quindi non mi avventuro se no poi nei commenti mi tirano le orecchie insomma ecco quindi c'è la morte tabù poi c'è la morte spauracchio quindi la morte spauracchio significa che bisogna temerla come il massimo male assoluto e quindi che cosa fare quando quindi allora mentre per quanto riguarda la morte tabù non ne voglio proprio parlare vuol dire che me la devo godere il più possibile quando la morte è uno spauracchio significa che bisogna cercare di dilatarla il più possibile cioè di dilazionarla quindi bisogna fare in modo che la vita umana diventi il più lunga possibile con la massima qualità della vita possibile e qui entriamo tutte quante quella serie di fenomenologie di vario genere alcune le abbiamo viste negli ultimi due anni e mezzo circa d'accordo altre se ne sono viste pensiamo tutta quanta la medicina a bordela tutte quante le problematiche connesse con l'accanimento terapeutico no qui si applicano perché si fa l'accanimento terapeutico in certi casi perché poi da un lato l'accanimento terapeutico e dall'altro l'eutanasia perché attenzione la quale eutanasia ha sempre attenzione perché noi dobbiamo fare attenzione non dobbiamo semplicemente qualificare le condotte come buone o cattive certo che dobbiamo farlo ma dobbiamo anche capire che tipo di visione dell'uomo della vita e della morte c'è dietro certe scelte dietro l'accanimento terapeutico c'è appunto il fatto che la morte è la fine di tutto e quindi dato che tu c'è soltanto questa vita devi cercare di prolungarti la vita il più lungo possibile perché il massimo male è la morte ma pensiamo anche qui andiamo sulle provocazioni la pena di morte tutto quanto il dibattito che ci sta adesso insomma che apre degli aspetti molto molto problematici ma perché la chiesa nella sua dottrina tradizionale ha da sempre ammesso la pena di morte in casi certamente limite estremi tanto è vero penso che lo sappiate che quando c'era un condannato a morte gli si mandava al sacerdote che se voleva poteva ricevere i sacramenti quindi c'era un accompagnamento del condannato a morte perché se la morte fosse il male assoluto mai si potrebbe ammettere per nessun motivo la pena di morte ecco perché qui capite ci giochiamo delle ma per noi cattolici credenti la morte è il male assoluto punto interrogativo e qui andiamo già alla terza alla terza dinamica la morte è il male assoluto è il male dei mali quindi c'è chi non ci vuole pensare c'è chi ci pensa essendone terrorizzato c'è chi invece ci pensa perché non ci può non pensare e sa che c'è ma come dire rifiuta di prendere una di approfondire questa cosa c'è e come mi relaziono di fronte a questo problema cosa c'è dopo ci sarà qualcosa non ci sarà e quindi che cosa come mi regolo prima ecco poi ci sono anche la categoria io la chiamerei degli illusi categoria anche questa purtroppo folta gli illusi sono quelli là che pensano dopo la morte non è vero che non c'è niente non è vero che finisce tutto perché questa idea se uno riflette un po' ripugna alla coscienza e al cuore dell'uomo non è possibile che con la morte finisca tutto dopo la morte c'è sicuramente qualcosa ma quel qualcosa secondo questa posizione la posizione degli illusi è sicuramente una cosa bella e come dire l'esito naturale della morte è che tu finisci finalmente di tribolare in questa vita certo lasciando tante cose belle quindi comunque la sofferenza ma dopo vai a stare meglio ma dopo vai a stare meglio o questa cosa qui oggi è enormemente diffusa tra quello che resta di certi cattolici e si sente sistematicamente voglio sperare di no ma facciamo così non di rado in certe prediche o in certe celebrazioni funebre pensate anche pochi sanno che per esempio il colore liturgico nero non è stato del tutto abolito perché per esempio alle sequie anche oggi si potrebbe usare il nero non lo usa più quasi nessuno però e se lo usi vai subito a creare questioni perché nel nero che sono queste cose qui insomma questa nostra mentalità moderna che non va a che non deve urtare le sensibilità non deve urtare le sensibilità quest'altra prassi che adesso ormai è diventata una moda guardate che le sequie sono proprio la cartina di tornasole di come la morte oggi è trattata purtroppo anche in certi ambienti ecclesiali proprio la cartina di tornasole una cosa che per quanto mi riguarda insomma ci sono pensiamo gli elogi funebri che vengono fatti non tanto nelle omelie ma dopo la comunione adesso ormai è diventata un'abitudine il funerale ci si siede e si cominciano a leggere in chiesa delle cose insomma che a volte non si possono proprio sentire cioè degli elogi umani di caratteristiche delle singole persone allora ci sono due problemi primo la chiesa non è il luogo adatto per questo tipo di manifestazioni concluse proprio con gli applausi applausi di cosa a parte che in chiesa gli applausi non si fanno quindi la chiesa non è il luogo adatto la liturgia non è il luogo adatto perché la liturgia non è finita dopo la comunione non è affatto finita ci stanno i riti di benedizione della salma ci sta il commiato il rito del commiato c'è la benedizione quindi come si fa a introdurre dentro la liturgia un elemento di questo genere tra l'altro completamente impazzito cioè che c'è scritto dentro quelle letterine e terzo ma scusate ma sono quelle le cose importanti quando una persona muore la rievocazione di alcuni tratti molto umani che e questo lo dico da prete per la persona defunta quelle cose non valgono meno che niente sono completamente andate quelle sicuramente sono completamente andate che la persona che passa attraverso la morte entra in un'altra dimensione per cui sentir dire quelle cose io sono certo di questo che dico alla persona defunta che vede quella cosa lì gli dà fastidio io lo capisco mi rendo perfettamente conto che le persone che le persone non lo capiscono infatti c'è modus e modus ci sono diversi sacerdoti che comprendendo che questa cosa qui non la si può allo stato attuale eliminare del tutto almeno la fanno posporre dopo la liturgia quindi si finisce la liturgia si dà la benedizione si esce e se proprio ci tieni sul sagrato davanti al feretro fai tutte quante le commemorazioni se vuoi se tanto ci tieni tanto con il livello come dire di fede quasi zero della stragrande maggioranza delle persone che ancora vanno a cercare le esegue vagliere a dire specialmente in quel contesto o in quel momento guarda che queste cose qui chi è morto ne vuole manco sentire succederebbe un macello non ti ascolterebbero mai a volte nel funerale si vede anche altro quindi come dire incursioni non autorizzate canti popolari cioè siccome al defunto gli piaceva che era certa canzone la cantiamo come canto di comunione ma dico ma stiamo scherzando ci siamo ridotti così ci siamo ridotti così amici miei cioè io parlo da parroco non è che parlo per sentito dire queste cose di cui sto parlando io le ho viste ne ho testimonianza ahimè ecco quindi è pregata per i parroci perché è difficile interagire con questa con questa con questa realtà sociale che ci sta perché capite che nelle sequie la stragrande maggioranza delle persone in Italia la stragrandissima maggioranza tuttora celebrano ancora le sequie in chiesa ma questo è come per il battesimo è come per i funerali oggi ci si trova che stanno sopravvivendo dei retaggi di una civiltà cristiana che non c'è più ma i retaggi sopravvivono ma quello che si va a vivere in chiesa è completamente sfalzato pensate alla gente che i funerali più a parte e si fa la comunione perché è morto mio padre che faccio la comunione è morta mia moglie che faccio la comunione è morta mia madre è morto mio figlio che faccio non faccio la comunione e finalmente c'è chi affronta la morte cristianamente parlando cioè si mette seduto e dice benissimo che cos'è la morte che è quello che faremo adesso che cos'è la morte cosa ci dice la rivelazione sulla morte perché moriamo da dove viene la morte cosa c'è dopo la morte come ci si prepara all'incontro con sorella morte corporale perché guardate amici miei che ogni giorno San Paolo dice ogni giorno affronto la morte che significa 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 che era in pericolo perché era perseguitato e che volevano ammazzarlo da un momento all'altro forse ma potrebbe anche significare che ogni giorno lui si mortifica la mortificazione no la mortificazione è tema che è strettamente connesso con la morte perché mortificarsi letteralmente in latino vuol dire morto un facere fare un morto capite e chi è morto so io se mi mortifico mortificarsi è certamente una possibile interpretazione dell'affrontare quotidianamente la morte ma ce n'è una terza affronto quotidianamente la morte cioè ogni giorno mi prepara a ben morire cioè è quello che noi ogni sera dovremmo dire non soltanto quando andiamo in funerale bene se il nostro signore mi chiamasse oggi come sto messo che sto in peccato mortale ci ho peccati non riparati ci ho penitenze non fatte ci ho guai che ho combinato e ancora non ho messo riparo questo è il modo cristiano di affrontare la morte la sera prima di andare a dormire facciamo un esame di coscienza facciamo l'atto di dolore chiediamo perdono dei peccati perché la notte quindi il termine della giornata terrena sapete che la giornata terrena è figura della vita umana tanto è vero che la morte per noi cristiani è semplicemente un sonno prolungato la notte dormiamo cimitero ecco perché poi parleremo etimologicamente chiumiuterion in greco significa dormitorio i cimiteri si sono mettati cristiani con le catacombe a cui non veniva passata ma qui per l'anticamera del cervello ti andava a bruciare i morti che te bruci i morti quello è il corpo di un figlio di Dio è un corpo che ha contenuto fino al momento in cui non è diventato cadavere l'anima è un corpo che è stato che che si è nutrito dell'eucaristia del corpo del sangue di Cristo è un corpo che è stato segnato dall'acqua battesimale dagli oli santi dall'unzione del crisma dalle benedizioni ma che te bruci e non è finito con la morte il corpo il corpo vedremo che affronta la morte e va in decomposizione per delle motivazioni ben precise ma quel corpo c'è il germe della risurrezione e va trattato con rispetto anche dopo queste cose se le sono inventate i cristiani andate a vedere a proposito del contesto sociale io sono parroco quando vedo quando le porte certificate di morte come dire cimitero di destinazione non sermonita ma le località in cui ci stanno i forni crematori capisco benissimo che quello è morto che o ha lasciato detto oppure i familiari hanno deciso di andarla a bruciare e lo fanno con la massima non scialanza come se niente fosse questo sempre perché per il motivo però l'ho detto la volta scorsa che ah ma la chiesa questa cosa adesso la consente quindi che problema c'è comunque le persone qualcuno è intervenuto anche sul canale telegram poi non mi va di mettere per iscritto che pensano che siccome una cosa è concessa quella cosa sia volontà di Dio e che se io non faccio una cosa che è concessa vado addirittura contro vado contro la chiesa ma stiamo scherzando stiamo ah no 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 la chiesa autorizza la comunione in mano quindi se non fai la comunione in mano sei disobbediente alla chiesa c'è gente che pensa questo ma dico ma stai scherzando stai sarebbe la stessa cosa che dico ah la chiesa autorizza la cremazione adesso perché è vero ah quindi se io non mi faccio cremare sono disobbediente alla chiesa ma stiamo scherzando stiamo ah la chiesa autorizza il clergyme autorizza i predi a portare il clergyme quindi io che porto la veste talare sono disobbediente alla chiesa ma stiamo scherzando stiamo ma che razza di modi di ragionare che ci abbiamo in testa farò un tweet nei prossimi giorni è troppo bello il grande Chesterton ha detto quando noi entriamo in chiesa ci togliamo il cappello ma non ci togliamo il cervello oh il cappello si toglie in senso di in senso di rispetto e il sacco di gente non solo toglie il cappello perché in chiesa per chi non lo sapesse gli uomini stanno a capo scoperto e le donne dovrebbero stare a capo coperto tutte oggi ormai galateo ecclesiale quindi molti uomini non se lo tolgono il cappello ve lo dico io sapeste quante volte ho dovuto dire a qualcuno si tolga il cappello per favore che stiamo in chiesa perché non si passa neanche un anticamma del cervello ma non il cervello mi tolgo il cappello ma non il cervello amici allora questa è puntata introduttoria sulla morte la morte secondo l'insegnamento della chiesa è il momento cruciale del definitivo della vita di un uomo ed è anche il momento in cui il proprio destino assume la sua direzione irreversibile cominciamo subito a tenere presente una cosa al momento della morte la condizione in cui sorella morte ti trova cioè sta in grazia o non sta in grazia perché questa è la grande differenza solo questa si cristallizza irreversibilmente per l'eternità se uno credesse a una cosa di questo genere irreversibilmente ma chi non sta in grazia di Dio chi non è in grazia di Dio sapete che significa cioè Gesù nel mangiare ha detto una cosa molto molto chiara chi non è come è contro di me chi non raccoglie come disperde non ci sono tre modi vabbè sto in grazia di Dio non sto in grazia di Dio non esageriamo un po' e un po' così e così no stare in grazia di Dio non significa essere santi stare in grazia di Dio significa essere fedeli essere salvati dal Signore quindi se muoio in questo caso dovrei raggiungere la salvezza non dovrei andare all'inferno detto in altre parole oh ma se io muoio senza stare in grazia di Dio senza essermi pentito guardate che sono guai sono eh perché la morte cristallizza irreversibilmente lo stato in cui ti trovi se tu non stai in grazia di Dio non è che dopo la morte ti vai a confessare fermi adesso l'ho visto che c'è un inferno un momento c'è un inferno un attimo guardate a confessare al volo non funziona così ho sempre a livello di premesse ci sono varie accezioni di morte la morte nel linguaggio comune è semplicemente la cessazione del processo vitale umano la morte biologica che qui anche questo è un tema che si apre su tutto quanto alla problematica del trapianto degli organi no? quando si ha la morte biologica quando cessa di battere il cuore o quando cessa l'attività cerebrale guardate che la questione non è ancora chiusa ufficialmente dal punto di vista magisteriale Giovanni Paolo II fece un intervento ma ad un congresso scientifico quindi un intervento ad un congresso scientifico non è un atto di magistero autentico dove sembrava propendere per la morte cerebrale ma c'è un sacco di gente anche tra i fedeli e teologi che non è mica tanto sicuro perché se si muore con la morte cerebrale tu puoi espiantare quegli organi che richiedono un organismo ancora vivo quindi un sangue che circola ma se si muore con la morte con la cessazione del battito cardiaco si possono espiantare quegli organi per esempio se non so male che non sono esperto su queste cose qui tipo le corne che non fa niente se tu sei morto ma non gli altri organi vitali capite dentro questa dentro questa dinamica che cosa va a succedere quante cose che si che si intersecano è come da un lato la chiesa sempre il baluardo difeso e custodito la chiesa la vita dal suo naturale concepimento fino alla sua morte naturale contro ogni eutanasia vedremo tante altre cose ma è contro l'accarimento terapeutico quindi la conservazione della vita biologica ad ogni costo non è nostro patrimonio perché con la morte non finisce tutto nessuno ti autorizza a decidere tu il momento della fine né tu che sei il diretto interessato né chi ti sta intorno familiari o medici nessuno ti autorizza ma la morte non è la fine di tutto per cui ti tengo in vita a condizioni pazzesche certo questi giudizi si fanno in bioetica proporzionatamente al grado di evoluzione oggi la scienza medica sta a tassi elevati per cui ciò che una volta si qualificava come un intervento straordinario oggi è un intervento ordinario d'accordo quindi su questo non ci sono dei limiti assoluti su queste cose ci sono dei paletti fermi che riguardano i principi dentro questi paletti fermi però c'è un'oscillazione che dipende evidentemente dall'evolversi delle cose non ci sono evidentemente alcuni confini che non si possono superare ma altre cose su cui c'è da fare un discernimento attento sulla base delle circostanze ora la morte invece in senso filosofico e teologico è la separazione dell'anima dal corpo che è una cosa di per sé come vedremo completamente innaturale che non sarebbe mai dovuta accadere e guardate che c'è solo una creatura a quanto pare in cui questo non è mai accaduto perché anche nostro Signore Gesù Cristo ha avuto la separazione dell'anima dal corpo perché nostro Signore Gesù Cristo è morto veramente Sant'Ommaso d'Aquino quando parla della morte di nostro Signore Gesù Cristo e la spiega dice la sua anima si è separata dal suo corpo certamente l'unione ipostatica è rimasta sia col corpo che con l'anima quindi la persona del verbo rimaneva unita sia al cadavere di Gesù Cristo che è la sua anima la sua anima è andata evidentemente unita con la persona divina del verbo negli inferi a liberare le anime che stavano nel limbo dei Santi Padri come la Chiesa della Manda nel Sabato Santo ma Gesù Cristo è morto veramente non per scherzo quindi per una quarantina di ore circa la sua anima è stata separata dal suo corpo e il problema della presunta morte della Madonna adesso vedremo questa è una puntata introduttoria perché vedremo subito la prima cosa che la Chiesa ha sempre insegnato sulla scorta del racconto della Genesi e di quello che afferma il libro della Sapienza è che la morte è una conseguenza del peccato solo il peccatore muore tu dici ma Gesù Cristo non era peccatore ma certo che Gesù Cristo non era peccatore ma lui ha preso su di sé il peccato e la morte è morto di morte violenta per espiare i nostri peccati doveva morire ma se Gesù Cristo non fosse stato ucciso di morte violenta state tranquilli che non poteva morire ora la Madonna non è morta di morte violenta non l'hanno uccisa perché se la Madonna Dio non voglia perdonatemi uno gli avesse dato una voltellata al cuore la Madonna c'ha gli organi c'ha gli organi come noi capite se uno gli avesse fatto subire quello che ha subito suo figlio sarebbe morta anche la Madonna ma la Madonna non ha subito nessun tipo di violenza quindi è passata attraverso la morte la sua santissima anima immacolata e impeccabile e come si dice che non ha peccato non si può dire impeccata ma che non ha commesso peccati passata attraverso la separazione io personalmente penso di no nel dogma dell'assunta questo problema non è stato risorto perché c'era e c'è tuttora il conflitto tra le opposte visioni ma per quanto mi riguarda non è assolutamente possibile quindi guardare Maria è proprio vedere il progetto che Dio ci aveva su ogni essere umano noi non saremmo dovuti morire nessuno la morte sarebbe stato un passaggio placido io non ho nessunissimo dubbio che la Madonna si è addormentata tant'è vero che nella vicino al Cenacolo a Gerusalemme c'è una basidia chiamata della dormizione di Maria e dormizione non da intendere come la intendevano i primi cristiani nel senso che la morte è un grande sonno no ma dormizione è da intendere in senso stretto un sonno statico un'estasi in cui l'anima della Madonna come in ogni estasi adesso non voglio mettere troppa carne al fuoco ma se uno legge gli scritti di Santa Teresa quando c'è un'estasi in senso stretto quindi un rapimento la parte superiore della nostra anima non è più con noi i corpi diventano freddi i sensi vengono persi le reazioni la reattività alle stimolazioni del corpo sensibile a nulla ma quello non vuol dire morire quello vuol dire che la parte più santa la parte non più santa la parte più nobile la parte superiore la chiamano i maestri di spirito dell'anima è rapita in Dio ma non è staccata completamente dal corpo perché se si staccasse completamente sarebbe la morte corporale la cessazione del battito cardiaco quel cuore immacolato ha mai cessato di pulsare proprio pulsare il movimento di sistore di diastole io credo di no per le motivazioni che vedremo adesso le introduciamo a proposito dell'origine della morte allora la sacra scrittura e la liberazione affermano chiarissimamente che la morte è la conseguenza più seria e più grave del peccato allora andiamo a leggere i testi perché a questo punto dobbiamo cedere la parola alla rivelazione abbiamo i seguenti testi biblici non sono tutti sono i principali sulla morte corporale Genesi 2 17 Genesi soprattutto 3 versetti 3 4 e 19 Sapienza 1 13 e 2 24 Romani 5 12 e 6 23 abbiamo ancora una decina di minuti li cominciamo a a vedere e poi piano piano li commenteremo tanto cominciamo a registrare alcuni dati c'ho il micetto che piange non mica starà a capire che stiamo parlando della morte non ti preoccupare che per te non è un problema stai tranquillo va bene in Genesi 17 si legge cominciamo dal 16 il Signore Dio diede questo comando all'uomo tu potrai mangiare tutti gli alberi del giardino ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare perché nel giorno in cui tu ne mangerai certamente dovrai morire ora nelle categorie sul peccato originale questo è un brano cult spiegavo che la la formulazione grammaticale usata dall'ebraico certamente dovrai morire è detto tradotto in italiano ma quella forma è quella costruzione particolare che è l'infinito più l'imperfetto mot tamut cioè non è certamente morirai ci puoi proprio mettere la mano sul fuoco se fai quello che non devi fare la morte sarà una cosa certa e inesorabile più avanti 3 3 4 la tentazione del diavolo Eva comincia a parlare con il diavolo dice la donna dice è vero che non dovete mangiare gli alberi dice no 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 possiamo mangiare tutti gli alberi nel giardino ma e qui andiamo al versetto 3 del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non dovete mangiare e non lo dovete toccare altrimenti morirete e attenzione il diavolo gli va a dire ma il serpente disse alla donna non morirete affatto stessa forma verbale usata per dire cioè guardate che morite sicuro al 100% io ti dico lo mot dice attenzione mot abbiamo capito che è l'infinito del verbo morire e poi c'è lo mot temutun che è l'imperfetto la stessa forma verbale ma che siete matti che sta dicendo ma non esiste proprio ma quale morte ma che dici ma che sta a dire quindi un'affermazione perentoria vedete vedete come il diavolo è è proprio è l'anti un'affermazione perentoria muore sicuramente con l'altra ma quando mai con la stessa identica forma verbale qui vi dovete fidare però se conoscete l'ebraico o se conoscete qualcuno che parla l'ebraico andate a verificare e a chiedere versetto 19 bravo 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 tu da ascolta al diavolo il signore dice con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché non riterronerai la terra perché da esse è stato tratto polvere tu sei e in polvere ritornerai quindi la morte c'è come e attenzione questa è l'ultima conseguenza del peccato per l'uomo poi ci abbiamo attenzione sapienza 1.13 e 2.24 li andiamo a vedere ci abbiamo ancora un pochino di tempo sapienza 1.13 qui non abbiamo l'ebraico ma soltanto il greco della 70 perché come sapete il libro della sapienza non appartiene al canone ebraico non esiste un testo della sapienza scritto in ebraico Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi Otheos Thanaton non l'ha fatta lui e non gode affatto Ude terpetai epa poleia la rovina la perdizione la poleia sarebbe dei viventi quindi la morte non c'è per colpa di Dio guardate già le problematiche dice da dove viene la morte perché c'è la morte non per colpa di Dio Dio non l'ha creata Dio non crea orrori e allora come mai che c'è la morte moriamo tutti quanti e aspetta un paio di capitoli e va alla fine del capitolo secondo famoso versetto 24 ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono quindi grande risposta al problema della morte no? andiamo al Nuovo Testamento Romani 5 12 poi chiudiamo con questi due testi che le approfondiremo la prossima volta Romani 5 12 dice quindi come a causa di un solo uomo che è Adamo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini perché tutti hanno peccato perché muori perché tu hai peccato in Adamo perché il peccato di Adamo sopravvive in te ed è la causa remota di tutti quanti i peccati che fai quando vediamo qualcuno che è morto pensiamo al peccato e a quanto è detestabile il peccato infine Romani 6 23 il salario del peccato è la morte quindi la morte non soltanto conseguenze la morte il salario capite cioè sapete cos'è il salario no? io faccio un lavoro e se faccio il lavoro per giustizia stretta mi è dovuto il salario tant'è vero che defraudare la merceda agli operai è un peccato che grida vendetta al cospetto di Dio per quanto è grave ma il salario del peccato è la morte cioè ciò che è strettovuto per strettissima giustizia quindi ci fermiamo a questa prima grande liberazione che cos'è la morte? la conseguenza del peccato il salario del peccato se l'uomo non avesse peccato se noi non avessimo peccato la morte non sarebbe esistita quindi cosa è sommamente da temere? la morte corporale che è effetto o la causa della morte che è il peccato capite cosa significa prendere sul serio questo che ci dice la saga scrittura e quanto oggi perdonatemi sul serio non lo prende quasi nessuno bene amici appuntamento se Dio vuole alla prossima puntata che Dio vi benedica e la Santissima Vergine sempre vi protegga